Un affettuoso saluto, Monsignor Bruno Forte. Grazie, ricambio. Sì, il responsabile dell'ecumenismo, anche se il titolo ufficiale è... Presidente della Commissione Episcopale per l'Ecumenismo e il DIA. Benissimo, grazie per questa precisazione. Allora, la prima domanda riguarda un documento che ha fatto discutere molto dentro l'Aula Sinodale, ma anche fuori, il messaggio del Sinodo a Papa Francesco. Lei come valuta questo documento? Molto positivamente, perché mi sembra una lettera molto serena, che ha saputo apprezzare il gesto di Papa Francesco. Ed è anche una lettera onesta che pone un'obiezione che, peraltro, è un'obiezione che è stata posta anche in ambienti cattolici quando, per il Giubileo del 2000, Papa Giovanni Paolo II volle chiedere perdono per le colpe del passato. L'obiezione sostanzialmente è questa, se ognuno è responsabile dei suoi atti, come si fa a chiedere perdono per atti compiuti da altri? E naturalmente la risposta era che la richiesta di perdono non è semplicemente una purificazione della memoria, ma è un cogliere la responsabilità che questo gesto significa per l'oggi, il non voler più ripetere gli errori del passato, il prenderne coscienza perché essi non accadono di nuovo. In questo senso è un atto estremamente importante perché ci aiuta a vedere in modo nuovo la nostra responsabilità nel presente, nel dialogo fra di noi, ma anche nell'impegno che abbiamo tutti insieme di evangelizzare l'umanità a cui il Signore ci manda. Lei è molto conosciuto come teologo, e questo già da tanti anni, quindi mi permetto di citare un suo collega, Hans Martin Barth, professore di teologia sistematica a Marburgo, che in uno dei suoi libri recenti afferma che viviamo in una società areligiosa. In altri termini, una società che non si pone minimamente il problema di Dio, la domanda su Dio, quindi non aspetta nemmeno nessuna risposta. In altre parole, per me come pastore, questo significa che stiamo diventando terra di missione. E la Chiesa Cattolica come reagisce a questa situazione, a questa sfida? Ma veda, ci sono due livelli, io credo. Uno, che è quello fenomenologico, che indubbiamente ci fa riscontrare un processo amplissimo di secolarizzazione nell'Occidente, naturalmente. Un processo che ci sfida tutti, come credenti, a proporre il Vangelo alle donne e agli uomini di questa postmodernità, postideologica, ideologica, mentre il tempo delle ideologie, in un certo senso, ci facilitava il compito, perché si trattava di combattere contro un avversario. Oggi si tratta di rinunciare il Vangelo a un mondo che a volte sembra disincantato, indifferente, distratto, preso dalla corsa al consumismo, all'idolo. Però, al di là di questa osservazione, che è piuttosto generale e che, naturalmente, sociologicamente è facilmente rimastabile, io sono certo della frase di Agostino. Hai fatto il nostro cuore per te ed esso è inquieto, finché non riposi in te. In altre parole, il grande collaboratore di Dio è il cuore dell'uomo. E questo cuore resta assetato di un senso, di un amore più grande, che possa anche giustificare la fatica di vivere e che possa illuminare quell'orizzonte ultimo che inevitabilmente ogni donna, ogni uomo percepisce nel cammino dei giovani, l'orizzonte del silenzio, della morte. Dunque, Dio non va in pensione. Nel cuore umano è vivo ed è vivo profondamente. Prima o poi, credo, si risvegli nel cuore di tutti la nostalgia di Dio, quella che Orkheim e Readorno chiamavano di «Sensucht nach dem ganz anderen», la nostalgia del totalmente altro. Ecco, in questo contesto che lei ha descritto così bene, sembra però che le uniche chiese che veramente crescono sono quelle di matrice pentecostale. L'impronta pentecostale è anche abbastanza visibile nel cristianesimo globale. Noi la percepiamo qui con i migranti che accogliamo nelle nostre chiese. Ma succede non di rado che queste chiese di matrice pentecostale assumono anche atteggiamenti fortemente anticattolici e di conseguenza anche anti-ecumenici. Lei come valuta questo fenomeno? Ma veda, io conosco da vicino il rinnovamento nello spirito che è, diciamo, la versione cattolica del movimento pentecostale. Proprio recentemente ho parlato all'incontro nazionale dei giovani del rinnovamento dello spirito che si è tenuto a Pescara con una grandissima folla di giovani, direi anche straordinariamente sensibili all'annuncio. Per cui ritengo che il pentecostalismo vada visto anzitutto nel suo valore positivo. Esso ti presenta un cristianesimo capace di riscaldare il cuore, di suscitare emozioni. Ora c'è stato un tempo in cui noi cristiani siamo stati tentati da quello che io chiamo il razionalismo della parola. Cioè è vero che la parola è il logos, ma il logos non significa soltanto il concetto, il logos significa il verbo che si è fatto carne. Dunque credo che nella predicazione, nella missione, noi dobbiamo valorizzare molto di più di quanto si è fatto nel passato anche gli elementi emotivi del sentimento, perché l'essere umano va considerato nella sua integralità e una fede soltanto razionale finisce con l'essere prima o poi molto arida. Naturalmente una fede che fosse soltanto emozionale rischia dell'essere molto vuota. Quindi emozione senza riflessione significa sentimentalismo, ma riflessione senza emozione significa freddezza, aridità. Insomma, cattolici ed evangelici devono insieme servire il Vangelo coniugando verità e passione, come direbbe Karl Barth, teologo certamente caro della tradizione valdese, leidenschaft und sachlichkeit, passione e oggettività. Ieri sera il sinodo valdese metodista ha approvato un ordine del giorno dedicato all'evangelizzazione, dove si afferma che l'evangelizzazione, la missione, in altre parole l'annuncio pubblico ed esplicito di Gesù Cristo è una vocazione costante che il Signore rivolge ad ogni credente e alla sua Chiesa. Lei ritiene possibile che nonostante le divergenze teologiche ma anche etiche tra cattolici e protestanti è possibile un impegno comune in questo campo? Assolutamente sì. Lo credo per una duplice ragione. La prima è teologica, perché siamo tutti servi di Gesù Cristo e della parola di Dio. Ora, chi si ritiene tale sa, come l'Apostolo Paolo, che è il suo compito, la passione e la missione della sua vita è annunciare Gesù, il Cristo. E quindi questo comune destino non può che farci trovare uniti. Ma il secondo motivo è che noi siamo uniti in questo destino di fronte a un mondo che, come lei prima diceva, appare tante volte insensibile o indifferente. Cioè siamo sfidati dalla sfida della secolarizzazione e dell'attesa del cuore umano che è più forte di tutte le possibili aridità razionalistiche o le cadute sentimentali. Ecco perché credo che stiamo nella stessa barca. E stando nella stessa barca non possiamo pensare che il mondo a cui il Signore ci manda o il Signore che ci invia ci perdoneranno se pensiamo a coltivare il nostro articello e non il grande campo del Vangelo. Allora possiamo camminare insieme, almeno in questo percorso? Io direi non solo che possiamo, ma che dobbiamo. Dobbiamo. E per di più vorrei aggiungere una cosa. Dobbiamo nella coscienza che il cammino comune sarà a un certo punto visitato dalla sorpresa di Dio. Cioè il futuro non è semplicemente la somma delle nostre possibilità ma il futuro è l'avvento della novità divina quella che sempre Karl Barth chiamava di l'impossibile possibilità di Dio. Il Signore ci sorprenderà. Di questo io sono convinto. Chi avrebbe pensato, anche soltanto qualche anno fa che un vescovo di Roma, il Papa della Chiesa Cattolica avrebbe visitato il Tempio Valdese di Torino e lo avrebbe fatto col clima di affetto, di amicizia con cui è stato accolto e con cui lui ha parlato. Chi avrebbe pensato che un vescovo e per di più teologo della Chiesa Cattolica sarebbe venuto a parlare insieme a Valdo Metorista accolto con un tifo da stadio. Mi sembra che sono segni di una nuova stagione della quale siamo tutti responsabili. Cioè nessuno di noi può dire me ne disinteresso. Abbiamo una causa comune da servire. Il fenomeno ci riguarda tutti come cristiani anche nelle nostre diversità. Una cosa che mi ha molto colpito racconto questo episodio perché mi sembra praticamente significativo ho fatto la vista pastorale nelle parrocchie della mia diocesi e sono andato anche in una dei 91 comuni dove c'è una presenza forte della Chiesa Ventista. All'arrivo sono stato accolto dal parroco naturalmente e dalla comunità ma c'era anche il pastore della Chiesa Ventista il quale ha voluto intervenire dicendo è ingiusto che lei faccia la visita pastorale solo alla parrocchia cattolica deve venire anche da noi. Naturalmente sono andato il sabato e ho tenuto da loro il culto. Dopodiché mi hanno chiamato alla facoltà ventista che a Firenze atteneva una lezione ed era curioso vedere tutti questi pastori o studenti pastori di tutta Europa che ascoltavano con tanta passione un vescovo e un teologo cattolico. Ecco queste sono secondo me le novità dello spirito. Sono cose che a un tempo ci sarebbero sembrate impensabili ma che oggi la fantasia dello spirito e la docilità d'essa rendono possibili. È un kairos, direbbe il Nuovo Testamento è un'ora di grazia alla quale nessuno di noi si deve sottrarre e vorrei dire con due condizioni importanti la prima, la fedeltà alla propria identità cioè non si tratta di banalizzare le differenze e la propria vocazione e missione l'altra, l'apertura sincera alle ricchezze che l'altro ci testimonia il riconoscimento, cioè della diversità riconciliata non solo come meta ma anche come strada da percorrere. Lasciamoci dunque sorprendere dal Signore e dalla sua grazia. Adesso io sorprenderò lei perché sapendo che lei è polacco le dico Ginguie Barzo. E io ricambio. Grazie a lei. 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 Grazie a tutti.